Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su LEGO Batman 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio Batman e Robin hanno raggiunto una fabbrica di prodotti chimici per vedere se riuscivano a trovare degli indizi riguardanti proprio ciò che stanno facendo Joker e Lex Luthor. Forse hanno trovato qualcosa. Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo per scoprire che cosa hanno scoperto. Prima di iniziare però volevo ringraziarvi per tutti i like, i commenti che state lasciando sotto i vari video che pubblico sul canale e naturalmente per aver condiviso gli altri episodi di questa serie. Ok ragazzi, rieccoci qua. Oggi dobbiamo raggiungere un super autotreno. Guardate che casino in città. La gente corre a destra e a manca. Probabilmente sta succedendo qualcosa. Mi sa che dobbiamo andare da questa parte. Occhio Batman a non schiantarti. Dai che forse ci siamo eh. Andiamo di qua. Proviamo a sparare dei razzi. Grazie. 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 Ok ragazzi, rieccoci qua. La giornalista ci ha spiegato un po' di cosette. Guarda lì. Ma cosa sta preparando? Una torta? Oioi oi. Hanno preparato la kriptonite. Allora, dobbiamo... Dobbiamo colpire l'autotreno con tutto quello che abbiamo. Occhio! Allora, possiamo usare tranquillamente la mitragliatrice. Stavo provando a dare un'occhiata. Occhio che stanno fuggendo. Occhio che stanno fuggendo. C'è anche un elicottero. Ok. Elicottero distrutto. Non mi lasciano sparare i razzi. Però volevo sparare proprio quelli. E invece possiamo utilizzare soltanto la mitragliatrice. Allora, gli abbiamo tirato via il secondo cuoricino. Ne mancano tre. Altro elicottero. Perfetto, distrutto. Occhio ai razzi... ...che ci spara. Aia! Terzo cuoricino andato. No, è ancora lì in piedi. Terzo cuoricino andato proprio ora. Ho distrutto anche l'elicottero. Adesso ci manca quella mitragliatrice là. Manca soltanto un cuoricino, eh. Dai che oramai è andato. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Vai, Batman. Salta su. Ha aperto una porta dal nulla. Fantastico. Allora. Allora, siamo dentro. Via. Occhio. E che è la guerra dei cloni questa? Allora, bisogna distruggere quei macchinari perché... rilasciano un robot. Un costume per Robin. Il costume magnetico. Dottore, si levi dalle scatole. Cosa succede? Perché ci chiedono di premere il tasto B? Ah! Dobbiamo trascinare questa sfera. Non l'avevo neanche vista. Ok, l'abbiamo recuperata. Questo robot è venuto a prenderla. Ma cos'è? Una specie di bomba? No, non mi sembra. Ah no, contiene energia. Ok. Vado sul tetto e poi... Ah! Ok, ma è molto grosso. Occhio. Sono cascato giù. Perché sono cascato giù? Scusate. Ah, perché c'è un buco lì in mezzo. Non l'avevo neanche visto. Allora, intanto... Fermiamo il robot. Tiriamo giù una scala per... ...Batman. Ah, non è... ...manuale, bisogna... ...girare una... ...una leva. Intanto qui abbiamo sbloccato due casse contenenti una piattaforma che ci permetterà di cambiare il costume a Batman. Ok, quello con gli infrarossi. Anzi, il costume ha sensori, per la precisione. Allora, il costume ha sensori... ...dobbiamo utilizzarlo qua. Chissà che... ...dobbiamo disattivare... ...quella telecamera. No. Qui non c'è niente da rompere, però. Salve, ragazzi! Abbiamo salvato... ...l'abitante in difficoltà. Però aspettate, eh. Volevo recuperare anche queste monetine. Allora, torniamo su. Eccolo! Perfetto, abbiamo disattivato la telecamera. Così anche Robin può salire. E stanno arrivando altri robot. Ciao, robottini! Mi siete mancati! Problema risolto! Robin, vieni su! Perché abbiamo bisogno di te. Dove caspita vai? Non devi andare da quella parte! Abbiamo sbloccato il passaggio. Adesso dobbiamo... ...spegnere... Dobbiamo spegnere qui i refrigeratori. No, aspettate. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, ottimo. E mi sa che possiamo passare al prossimo vagone. Direi di sì. E direi anche di abbattere questi due qua. Ehi, quanta roba che abbiamo sbloccato. Un altro costume? Un altro costume? Un altro costume. Il... Bat... Costume? Il Bat costume è munito di ali, salta e tieni premuto A per planare. Ok, però direi che non funziona. Magari prima dobbiamo usare Robin. Eh sì, direi di sì. Direi di sì. Ho preso la scossa di nuovo. No problem. Ok, ho distrutto una specie di vetro. Adesso però mi serve Robin. Perché quello lo può distruggere soltanto lui. Ah, siamo arrivati... No, c'era un mini kit! Lo voglio prendere. Alla fine il mini kit sono riuscito a prenderlo. No, quello non lo possiamo distruggere. E il problema è come fa Robin a venire da questa parte? Ok ragazzi, bastava distruggere... Questo meccanismo per permettere a Robin di passare. Ci deve essere un modo per andare lì sotto, eh? Però non mi viene in mente... Dove si potrebbe trovare il passaggio? Ah, forse qua sotto. Aspettate. Ma intanto distruggiamo questo. Forse qui sotto c'è la possibilità di... Vediamo un attimo. Ecco, infatti, proprio lì. Possiamo passare... Da quella parte. Altri robot. Uno è volato giù, eh. Vabbè, intanto eliminiamo questo. Intanto un colpo e... Ci salutano. Andato anche questo e siamo dentro. Ottimo, abbiamo aperto quella porta. Un altro robot da questa parte. Però l'abbiamo immediatamente distrutto. A parte che qui ci sono dei pezzi in più... Che però non ci servono a niente, mi sa. Infatti. Aha! Adesso ho capito come raggiungere quel mini kit. Mi scusi, signor robot, ma... Mi sta dando molto fastidio. Senti il Joker come se la ride. Ah, sono là in cima. Non li avevo visti. Però forse per recuperare quel mini kit... Ci serve... Ci serve Superman che può volare. Batman e Robin non bastano. Distrutto. Ah, possiamo arrampicarci da questa parte. Guardate, non avevo visto che c'era... Questo passaggio. Ok, arrivati. Altro meccanismo da distruggere. E ci manca soltanto... L'ultimo raggio, eh. Sono volato letteralmente giù. Batman è ancora là in cima. E non ho capito cosa sta aspettando. Ah, no, è da questa parte. Quello là era solo il suo costume. Allora... Batman, Batman, Batman... Ok, ho capito come fare. Mi sa che dobbiamo sfruttare... Questo gancio. Perfetto. E adesso utilizziamo questa armetta per sbloccare questa leva. Ok, ultimo meccanismo distrutto. La kriptonita adesso non è più protetta da nulla. Occhio. Haha. Gran colpo. Occhio, Robin! Meno male che c'era la Batmobile. No! No! Mi ha distrutto la macchina! È quello che mi chiedo anch'io. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche questo livello che si chiama firma chimica. Livello abbastanza semplice. In alcuni punti mi sono perso come dentro ad un bicchier d'acqua. E adesso però dobbiamo scoprire dove sono finiti Lex, Luthor e Joker. Perché sono riusciti a sfuggirci. Direi ragazzi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Lego Batman 2 qua. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace. Commentate, condividete. Iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Lego Batman 2. Alla prossima ragazzi! Iscrivetevi al canale e 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 iscrivetevi al canale.